Al via i lavori di messa in sicurezza dell'impalcato delle rampe di accesso al viadotto dell'asse attrezzato a Pescara, i lavori serviranno a rimuovere le parti in cemento armato ormai deteriorate a rischio crollo sulla banchina e al relativo rifacimento degli assi. Il cantiere, secondo il cronoprogramma, dovrebbe chiudersi entro 45 giorni, dunque entro il prossimo 16 di ottobre. Due anni e mezzo fa, ha detto l'assessore Fiorilli, dal ponte dell'asse attrezzato si era verificato un distacco di pezzi di cemento armato deteriorati dal tempo e dalla presenza del mare del fiume, pezzi che erano piombati all'interno del parcheggio della Golena, imponendo all'anas un intervento d'urgenza. La Golena restò chiusa per diversi mesi, privando la città di parcheggi in piena stagione invernale. Dall'intervento di manutenzione sono rimaste però escluse le due rampe sopraelevate di raccordo tra il viadotto dell'asse con piazza Unione in entrambe le direzioni di ingresso e uscita, che sono ricomprese nel patrimonio stradale di competenza comunale. Nelle scorse settimane gli uffici tecnici del Comune hanno ricevuto un fonogramma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e una nota della Capitaneria di Porto, in cui si segnalava la caduta sulla banchina sud del porto di alcune parti in calcestruzzo. Saranno dunque lavori necessari per la messa in sicurezza delle superfici deteriorate delle pile dei viadotti delle rampe, delle solette che costituiscono l'impalcato del viadotto delle rampe e infine dell'intradosso dei giunti dell'impalcato, con un investimento di 39.000 euro circa. L'area di intervento è stata transennata, chiudendo la sosta a 30 posti auto, lasciando però alla libera fruizione gli altri 350 disponibili. In caso di necessità, comunque, ha concluso l'assessore, per compensare la temporanea carenza di parcheggi, il Comune interverrà con Busnavetta.